Estra clima ottiene dall'autorità garante della concorrenza e del mercato due stelle delle tre del rating di legalità rilasciato alle imprese senza procedimenti o condanne penali nel biennio precedente la richiesta. Non solo luce gas ma anche il ciclo dei rifiuti con l'acquisizione di una partecipazione in Ecolat Grosseto attiva nei servizi ambientali Estra rafforza la sua presenza strategica e accentua il suo ruolo di multi-utility. San Severino Marche non ha soltanto il nuovo store, Estra aggiunge al negozio la prima colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. La mobilità pulita è un progetto strategico del gruppo Estra. Estra associa il suo nome alla Lube, la prestigiosa società di pallavolo di Civita Nova Marche che milita nel campionato di A1. Per Estra è un altro prestigioso abbinamento a sostegno dello sport e del territorio. Grazie per la visione!